Siamo bloccati sul volo 767 del voloing, della roba capitale, perché comunque non c'è stato concesso di sorvolare sugli Emirati Arabi, quindi siamo stati diventati in Arabia Saudita. Adesso siamo fermi a Dhammam, dove stiamo facendo il fornimento con la speranza di partire e di avere l'ok per passare in Emirati Arabi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.